Un crack colossale da 100 milioni di euro. Sono tutte riconducibili alla famiglia Malavolta, gruppo leader nazionale nella produzione e distribuzione di prodotti da forno, le aziende coinvolte nell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma. L'inchiesta, partita nel 2008 in seguito al fallimento della società capogruppo, la Malavolta Corporate SPA, nel tempo si è allargata, portando alla luce altri tentativi pilotati di fallimento. Oltre alla società madre, altre 15 dello stesso gruppo sarebbero state deliberatamente avviate al fallimento, prima di essere spogliate dei rami d'azienda attivi a beneficio di società di nuova costituzione, controllate da una nuova holding di famiglia riconducibile sempre agli stessi indagati. Tra queste sette società, per un valore di 23 milioni di euro, sono state sequestrate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma. Queste, avendo beneficiato dei beni sottratti alle società fallite, hanno potuto proseguire le attività imprenditoriali senza debiti pregressi. Il valore dei beni distratti fraudolentemente dalle casse della società fallite ammonta ad oltre 65 milioni di euro, mentre il passivo fallimentare è complessivamente accertato, come detta di circa 100 milioni di euro, di cui 10 milioni verso l'erario 14. Gli indagati, tra cui due commercialisti romani, per loro a vario titolo, l'ipotesi di reato contestata dalla Procura della Capitale è quella di bancarotta fraudolenta e di riciclaggio.